Treviso Lascerò Treviso come una città, una provincia sicura. Treviso è stata una realtà unica per la sua bellezza, per la ricchezza del suo territorio e soprattutto delle sue comunità. Ricchezza a 360 gradi, sia sotto un profilo economico-finanziario, ma soprattutto sotto un profilo culturale, sotto un profilo valoriale. Sono stati tre anni intensi, tre anni veramente di complessità a 360 gradi, dove l'arma della provincia di Treviso non è stata protagonista soltanto sotto un profilo di attività repressiva, dandomi grandissima soddisfazione ovviamente per quanto riguarda tutti quei reati che hanno un po' isolato la normalità, l'ordinarietà e che hanno un po' turbato inizialmente le comunità. Quei reati, grazie alla professionalità dei miei carabinieri, dei carabinieri di Treviso, sono stati puntualmente tutti quanti orientati nella dimensione giusta. Ma l'arma di Treviso ha avuto anche un grande impegno nel sociale attraverso le sue stazioni carabinieri, dove alla fine è stato fatto un grande lavoro proprio di impegno sociale, di ascolto delle comunità, dei cittadini. E mi piace ricordare poi in questo impegno anche le due aule dei due uffici per le audizioni protette che abbiamo ideato ma soprattutto poi inaugurato recentemente rispettivamente a Conegliano e a Vittorio Veneto. Quali sono le azioni più significative che ricorda? Ma guardi, io ricordo sicuramente i fatti drammatici di Cisoni Valmarino, dove purtroppo abbiamo avuto delle vite spezzate che hanno turbato sicuramente la provincia, le comunità. Ma poi ci sono stati anche altri fatti di sangue. Mi ricordo i fatti di Villorba di settembre 2018. Mi ricordo alcune esplosioni di armi da fuoco all'indirizzo di una persona, Oderso, nel agosto 2018. Mi ricordo un attentato di danni militardo nell'abitazione di un imprenditore nei pressi di Ausolo. Tutti fatti che ovviamente hanno sconvolto quelle che sono state la civile convivenza della comunità e che ha destato sicuramente in noi, giustamente, la determinazione e l'impegno che i fatti meritavano. Grazie. 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 Grazie.